inizia oggi la premier league per il motostar 2000 la sfida è tra newcastle e liverpool quindi subito un big match busso che prova ad accentrarsi adesso passa fa tutto da solo il sinistro parato liverpool in avanti con magno magno fa tutto da solo finte ancora finta di magno che se ne va con una veronica sempre lui con la punta il piazzato è il primo gol della premier league di quest'anno del motostar 2000 prova adesso ad accentrarsi salvucci carica il destro è un missile va sotto la traversa è l'uno pari segnato dal newcastle attenzione perché ci prova liverpool finta passaggio dentro e piazzato a porta tutta vuota di genuino prova a ripartire liverpool l'interdizione però del newcastle un tacco adesso giocata si può andare dalle parti di soccorsi eccolo proprio soccorsi la mette dentro per pugliese a porta vuota due pari adesso newcastle ancora palla dentro e la rete e la rete del 3 a 2 lo segna soccorsi il diagonale vincente newcastle ora sulle ali dell'entusiasmo una palla ancora sempre per soccorsi soccorsi col destro sotto le gambe del portiere 4 a 2 newcastle prova a partire sempre newcastle con soccorsi che la mette sotto le gambe ora sono cinque le reti palla ancora dentro e il piazzato sempre di soccorsi a nulla serve la deviazione finale del difensore sempre newcastle una palla dentro per colucci 7 a 2 newcastle liverpool che prova a riaprirla con magno il piazzato tante gambe davanti al portiere la rete del 7 a 3 e si riaccende qualche piccola speranza liverpool palla dietro per nicastro all'angolino basso e la rete del 7 a 4 partita veramente che non finisce mai ancora una palla dentro e ancora una rete del newcastle magno prova ad accendersi in mezzo a 2 ancora magno messo giù rigore rigore quindi di magno va lui col destro spiazza il portiere lotta 5 ecco che arriva anche il triplice fischio dell'arbitro che dice che può bastare partita spettacolare newcastle batte liverpool 8 a 5 e bisognerebbe girare più palla e cercare di giocare più con calma senza troppo troppi scatti troppe cose al carcetto serve più giocare con calma piano giri palla al taglio e vai dentro a fa go abbiamo iniziato bene poi purtroppo sarà il debutto sarà molti giocatori nuovi non sono giustificazioni però purtroppo siamo andati nel secondo tempo sotto non siamo più riusciti a recuperare è stato un incontro molto difficile siamo venuti in cinque con molte assenze abbiamo girato palla con pazienza non abbiamo iniziato bene abbiamo dimostrato secondo me di essere una grande squadra pure stasera cinque contati abbiamo portato i tre punti a a casa molto importanti che ci servivano per questa prima giornata mancata un pochino di squadra un pochino di gioco però prima partita piano 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 usciamo fuori anche perché siamo un gruppo abbastanza unito quindi non trovo non trovo giustificazioni su nulla andiamo avanti giochiamo poi vediamo alla fine come finisce